Ciao, siamo arrivati alla quarta lezione sul testo informativo espositivo. Ci occuperemo oggi in particolare di come fare il passaggio dal brainstorming, cioè dalla raccolta disordinata delle idee alla scaletta, che poi ci porta alla stesura del tema vero e proprio. Cos'è il brainstorming? Qui lo vedete ben rappresentato in questa slide. Questo è il brainstorming fatto da alcuni vostri compagni di classe, che di fronte alla proposta di mettere per iscritto un testo dedicato alla presentazione del tempo libero, dei divertimenti degli italiani, un testo espositivo immaginato per degli studenti stranieri, hanno cominciato a mettere sulla carta tutta una serie di idee suggerite da questo argomento. Tempo libero e divertimenti. Qualcuno ha parlato di sport, Twitter, lettura, amici, cinema, andare a pesca. Se li guardate bene tutti assieme, vi accorgete, io li ho evidenziati con gli stessi colori, che ci sono anche dei doppioni, perché Facebook, per esempio Twitter, fanno parte dei social network. Dire uscire con gli amici o stare con gli amici è un po' la stessa cosa, ma ci sta nella fase del brainstorming che vengano inseriti anche dei doppioni o non vengano per esempio raccolti sotto la stessa categoria due tipi di social network, come in questo caso. Ovviamente però nel passaggio dal brainstorming alla scaletta delle idee, io mi devo accorgere di questi doppioni e quindi eliminare o raccogliere all'interno dello stesso insieme gli elementi che fanno parte di questo insieme. Quindi potrò o mettere, collegare Facebook ai social network insieme a Twitter, oppure più semplicemente lasciare social network e ricordarmi che poi dovrò entrare nello specifico e fare qualche esempio. Così come amici o uscire con gli amici è la stessa cosa e quindi potrò eliminare uno di questi. Dopo che ho eliminato le voci che sono doppie o che appartengono allo stesso insieme, passo dal brainstorming alla scaletta delle idee. Questa è il primo ordine della scaletta delle idee che è stato fatto da questi vostri compagni, i quali analizzando un po' tutte le tipologie di divertimento che erano state suggerite dal tema, si sono accorti che alcuni di questi divertimenti sono ormai hobby prevalentemente degli anziani, comunque di persone di una certa età come giocare a carte, andare a caccia, pesca, giocare a boccio, dedicarsi al giardinaggio. E poi ci sono delle altre tipologie di divertimento che praticano più frequentemente i giovani, come per esempio uscire ad andare a ballare alla sera, andare nei locali dove c'è il karaoke. La lettura per esempio purtroppo è stata qui catalogata come un passatempo degli adulti, ma sappiamo che ci sono molti giovani che sanno leggere. E poi c'è tutta una serie invece di altri divertimenti che sono stati messi un po' a cavallo tra il gruppo degli adulti, la categoria degli adulti e quella dei giovani perché i ragazzi hanno pensato che fossero di fatto amati da entrambi. A questo punto, dopo questa prima fase di ordine delle idee in tre grandi insiemi, considerati in questo caso per età anagrafica delle persone che hanno questi tipi di divertimento, non mi resta che decidere se cominciare a parlare dei giovani, degli adulti e degli anziani, che vorrebbe dire seguire un ordine logico-cronologico o partire dai più anziani per arrivare ai giovani e poi stabilire un ordine, quindi numerandoli, per la trattazione di questi diversi tipi di hobby. Vediamo qui un'altra scaletta delle idee fatta su un altro argomento più specifico, questo, i tatuaggi. Alla proposta di stendere un tema sui tatuaggi, ai ragazzi sono venute queste idee. Dopo l'introduzione, che potrebbe essere impostata precisando cosa sono i tatuaggi, quando e dove sono nati, dove e perché scopi venivano fatti, i ragazzi hanno pensato, nella parte centrale, di approfondire in tre paragrafi diversi, uno, due, tre, quattro, li abbiamo numerati, che cosa? Nel primo paragrafo le tipologie e i significati dei tatuaggi, in un secondo paragrafo la loro diffusione nel mondo e i significati che hanno oggi, in un terzo paragrafo gli aspetti legati alla permanenza, alle tecniche di eliminazione dei tatuaggi, per chi cambia idee e vorrebbe toglierseli, e poi di trattare anche, come altro aspetto dell'argomento tatuaggi, i rischi sanitari legati ad essi. La conclusione è stata lasciata libera perché poi ogni ragazzo in fase di stesura avrebbe così avuto la possibilità di scegliere un tipo di finale piuttosto che un altro anche in base alla sua originalità. Quindi, per ricapitolare, il testo informativo-espositivo è un testo che informa accrescendo le conoscenze del destinatario. I destinatari possono essere le persone più diverse, anche con diversi livelli di istruzione e di conseguenza sia il tipo di approfondimento dell'argomento, sia il tipo anche di linguaggio che utilizzo per presentarlo, devono adeguarsi alla preparazione, alla formazione su quell'argomento del mio destinatario. Esistono diversi tipi di testo informativo-espositivo, alcuni più brevi, altri più complessi, come abbiamo visto. L'importante è ricordarsi quando lo si scrive che il registro deve essere formale, il tono oggettivo, non devo esprimere assolutamente idee personali. La struttura, in sintesi, è quella che abbiamo già visto. Ci deve essere un'introduzione, un corpo centrale, una conclusione, il tutto organizzato in paragrafi divisi in capoversi. I tipi di introduzione che possono essere utilizzati sono quelli dell'aneddoto, della citazione, della domanda, della definizione, che se vogliamo possono essere poi riproposti anche come forma per concludere il testo. Per trovare degli spunti per l'organizzazione del corpo centrale posso usare delle domande guida, che possiamo dire sono delle domande standard, che ovviamente però devo adattare a seconda del tipo di argomento. Un testo informativo espositivo potrebbe iniziare, per esempio, rispondendo alla domanda cos'è, come nel caso appunto del libro di grammatica che abbiamo visto, oppure con una definizione, come nel caso del inquinamento acustico, o anche con la precisazione del quando il cos'è il come un determinato fenomeno si è verificato, oppure una forma, per esempio, di decorazione corporale, come i tatuaggi. Di un fatto, di un argomento, di un fenomeno, posso poi spiegare anche il perché, quindi le cause, per poi passare all'analisi delle conseguenze. Posso scendere nei dettagli e indicare le caratteristiche di quel determinato fenomeno, oppure le tipologie, per esempio, se sto parlando delle droghe, posso distinguere tra droghe pesanti, droghe leggere e le caratteristiche chimiche, gli effetti che producono. Se sto parlando di un fenomeno come, per esempio, la violenza negli stadi, posso immaginare di porre come conclusione una risposta a delle domande, come quali sono i rimedi, le possibili soluzioni al problema. Quali altre possibili aggiunte posso fare quando scrivo un testo informativo espositivo? Ricordiamoci che se è una relazione, un sondaggio, una relazione, per esempio, di chimica o di fisica, è importante mettere anche delle immagini, dei grafici e delle tabelle. Per quanto riguarda gli aspetti linguistici, devo usare la terza persona singolare, il tempo presente, a volte potrebbe anche servire a usare l'imperfetto, sintassi, ricordiamo, abbastanza semplice e comunque adeguata sempre al mio destinatario.